Siamo alla fine della partita, il nostro giocatore viene lanciato in profondità, diceva il pallone, entra in aria, tic! Interrompiamo la trasmissione perché qualcuno non ha pagato il canone. Mi sconare! Mi sconare! Vediamo insieme l'azione di attacco dell'Italia. Godeteli i mondiali sulle reti Rai, il canone costa poco, mentre certe emozioni non hanno prezzo. Goal! Goal! L'Italia ha vinto! Inoltre la Rai mette in paglio per ogni dieci nuovi abbonati una radio. Grazie! Prego! Per ogni cento un compact disc, per ogni mille un videoregistratore e per ogni cinquemila una telecamera. Grazie! Complimenti! Tanti premi Telefunken da vincere entro il 15 giugno. Rai, di tutto, di più.